Cassa integrazione, concordati preventivi, fallimenti, licenziamenti, altro che anno della ripresa. I dati economici del 2012, specialmente da settembre, sono un bollettino di guerra. Le aziende continuano ad accedere senza sosta agli ammortizzatori sociali. Tra gennaio e settembre del 2012 la richiesta di cassa integrazione è cresciuta del 13,6%. Ancora più preoccupante il confronto tra settembre 2011 e settembre 2012. Le ore autorizzate di cassa sono aumentate del 20% e la cassa straordinaria aumenta più di quella ordinaria, dato questo da non sottovalutare perché mentre la cassa ordinaria serve per tamponare una difficoltà temporanea, quella straordinaria spesso è l'anticipazione di una chiusura o di una drastica riduzione del personale. La crisi ha toccato praticamente tutti i settori, dall'industria ai servizi, dall'agricoltura al terziario. Ha travolto un gruppo storico come la Frange Auto, concessionario di automobili, ha colpito la Almax di Mariano Comense, specializzata in manichini, così come la Frange SPA di Uggiate, produttrice di cravate, che a fine settembre ha depositato in tribunale una richiesta di ammissione al concordato preventivo. Di alcuni casi comaschi e eclatanti se ne occupata anche la stampa nazionale. Parliamo della eleca di Cantù General Contractor, i cui 150 dipendenti a inizio novembre aspettavano ancora lo stipendio di luglio e di agosto. A inizio ottobre poi la Carnini di Villaguardia ha smesso di produrre latte. Lo storico Marchio Lariano, acquisito diversi anni fa da Parmalat, ha trasferito gli impianti ad Albano Sant'Alessandro. L'agricoltura non va certo meglio. Union Camere Lombardia e Regione Lombardia hanno presentato recentemente i risultati di un'analisi congiunturale relativa allo stato di salute del settore nel terzo trimestre 2012. Un'indagine è condotta attraverso una lunga serie di interviste. Il 44,1% degli agricoltori ha dichiarato che gli affari sono peggiorati.